Licenziamenti antisindacali. Con questa motivazione il Tribunale del Lavoro di Firenze ha bloccato i 422 licenziamenti per i lavoratori dello stabilimento GKN di Campi Bisenzio. I giudici hanno accolto il ricorso dei sindacati avverso il procedimento avviato dall'azienda, ravvisando comportamenti antisindacali con i lavoratori che erano stati informati di aver perso il posto di lavoro via mail. Ora la GKN deve avviare le consultazioni con i sindacati e pubblicare a proprie spese la sentenza su quattro quotidiani. Grazie per la visione!